Buongiorno a tutti da Matteo Lombardi e da Radio Roma Futura.it. Stiamo trasmettendo le informazioni meteorologiche di Pigneteo, la stazione meteo del municipio Roma 5. Oggi, 20 febbraio 2015, avremo una giornata serena con delle temperature che oscilleranno tra i 6 e i 14 gradi centigradi. È prevista una giornata serena con possibilità di addensamenti nuolosi nella tarda serata, che ce le ritroveremo nella giornata di sabato 21 febbraio, in cui si registra possibilità di deboli piogge nella mattina con l'intensificarsi delle stesse nel pomeriggio. Oggi il sole è sorto alle 6.59 e tramonterà alle 5.48, avremo quindi pen 10 ore e 49 minuti di lunghezza di giorno. Per quanto riguarda gli amanti dell'almanacco, ricordiamo che la giornata più fredda mai registrata nel 20 febbraio fu nel 2013 in cui raggiungemmo i meno 2 gradi, mentre la giornata più calda fu nel 1998 in cui la temperatura segnò ben 17 gradi centigradi. Come detto, la luna è nella fase nuova, quindi abbiamo una bella luna nuova con un 2% di illuminazione. Anche per oggi è tutto, buona giornata e buon tutto!